Work in progress per la sesta edizione del Corteo Storico in onore dei Principi Carafa e Rocella Ionica. La suggestiva rievocazione quest'anno si terrà nel cuore dell'estate, viste le numerose richieste di turisti e cittadini, nello specifico si svolgerà lunedì 7 agosto con inizio alle ore 21, e sarà dedicata ancora una volta alla figura plurititolata di Fabrizio Carafa, primo principe della Rocella del 1594 e principe del Sacro Romano Impero, Terzo Marchese di Castelvetere, Conte Palatino, Cavaliere dell'Ordine Toscandoro, fondatore e patrono del priorato della Rocella. La manifestazione celebra alcune delle pagine più significative della storia feudale della cittadina, con rievocazioni in costume d'epoca e animazioni varie. L'evento è promosso dal Comune di Rocella Ionica su impulso dell'assessorato alla cultura e si avvale del supporto organizzativo di un comitato tecnico e di un comitato scientifico, composto da studiosi e esperti di storia. Particolare attenzione è stata infatti riservata anche alla messa in scena di quadri storici lungo l'itinerario che partendo da Castello Carafa attraverserà via Vittorio Emanuele, percorrendo il centro del paese, per poi concludere al teatro al castello con un imperdibile spettacolo di sbandieratori. Insomma, un programma di tutto rispetto che porterà per un giorno Rocella e quanti vi parteciperanno in un emozionante full immerso nella storia.